Sesta parte della ventiduesima lezione per l'insegnamento di metodi matematici per l'ingegneria. Così come su S abbiamo fornito una nozione di convergenza, quindi una topologia, un modo per dire quando è che le successioni convergono, quando è che gli elementi sono vicini o si avvicinano, ma vi ricordate su S, sullo spazio delle funzioni test, fi con n converge a fi quando n tende all'infinito in S, questo equivaleva a dire che le seminorme che abbiamo chiamato jk di fi con n, fi con n meno fi seminorma in jk, questa quantità qui per n che tende all'infinito converge a 0 per ogni j e k naturali o nulli. Ecco, nello spazio delle distribuzioni temperate S' adesso vogliamo definire cosa significa che una successione T con n di distribuzioni converge a T quando n tende all'infinito nel senso delle distribuzioni. Adesso andiamo a definire, non l'abbiamo ancora detto, convergenza nel senso delle distribuzioni. L'osservazione che facciamo è che la convergenza nella funzione di test, questa è una convergenza molto esigente. Convergenza molto esigente. È molto più forte della convergenza uniforme, che già di suo è abbastanza esigente. La convergenza uniforme di fatto è quella che si riferisce solo al caso in cui j è 0 e k è 0. Vogliamo una convergenza uniforme di tutte le funzioni derivate da qualsiasi ordine e moltiplicate per qualsiasi polinomio. Quindi è una convergenza estremamente esigente. Ecco, invece, per quanto riguarda le distribuzioni, forniamo adesso una nozione estremamente debole, poco esigente. Esigente, proprio chiediamo il minimo che si possa chiedere. Cioè, chiediamo, quindi diciamo che t con n converge a t quando andiamo a prendere t con n su una funzione test. Questa è una sequenza di numeri e questa sequenza di numeri converge per n che tende all'infinito a quello che uno si aspetta, cioè a t valutato su phi. Questa si chiama... è un tipo di convergenza molto debole. Per ogni funzione test ci aspettiamo che il valore della distribuzione testata converga al valore della distribuzione limite testata sulla stessa funzione test e questo però deve valere per ogni funzione test del nostro insieme. Questa operazione di convergenza è anche un'operazione, per quanto debole sia, anche un'operazione abbastanza potente. Per esempio, ci permette di approssimare distribuzioni che non sono... che non corrispondono a funzioni integrabili tramite funzioni integrabili. Un esempio è quello che vediamo adesso nella prossima proposizione che va sotto il nome anche delle approssimazioni della delta di Dirac. quindi approssimazioni della delta di Dirac, delta di Dirac, che in qualche modo riprende un tema che abbiamo già visto quando abbiamo considerato l'approssimazione con le convoluzioni. Di fatto, questa non è la versione a livello di distribuzione. Sia F, una qualsiasi funzione L1R, con la proprietà che l'integrale della F su R, su tutto R, integrale della F non del valore assoluto della F, faccia 1. Per ogni ε maggiore di 0 definiamo i soliti riscalamenti, e definiamo, l'abbiamo già visto tante volte, F ε di x lo definiamo come 1 su ε, F di x fratto ε. Allora, abbiamo che F ε converge alla delta di Dirac, concentrata nell'origine, quando ε tende a 0, nel senso delle distribuzioni, nel nostro caso temperate, ovvero in, si dice brevemente, in S''. Facciamo vedere che vale questa proprietà. Quello che dobbiamo fare è capire la F ε vista come distribuzione, testata su una funzione test di Schwarz, capire come si comporta quando ε tende a 0. questo non è altro che l'integrale di F ε di x per Φ di x in dx. Per la definizione di F ε, questo è l'integrale di F di x fratto ε, Φ di x, non avevo messo un 1 su ε, lo metto adesso, di x fratto ε. Andiamo a fare un cambio di variabile, se chiamiamo y x fratto ε, questo vuol dire che x sarà ε, y, e il dy coinciderà con il dx fratto ε, 1 su ε dx. Quindi facendo il cambio di variabile, quello che troviamo, quindi l'integrale va da meno infinito a più infinito, l'ε è positivo, quando la x viaggia da meno infinito a più infinito, anche la y viaggia da meno infinito a più infinito, abbiamo F x fratto ε e F di y, Φ di x diventa Φ di ε y, dx fratto ε diventa il mio dy. E adesso osserviamo quello che succede alla funzione integranda, il limite per ε che tende a 0 più di Φ di ε y, di ε y è uguale, siccome φ è continua, φ è una funzione testa, quindi φ è continua, e quindi ε y tende a 0, e questo tutto tende a φ di 0. Quindi la nostra funzione integranda converge a Fy per φ di 0, quando la ε tende a 0 più. Quindi abbiamo il limite puntuale della funzione integranda, inoltre, F di y per φ di ε y, questo è il minore uguale di F di y, che moltiplica il sup della φ, quella che possiamo anche indicare con la seminorma φ di 0, 0. Ora, questa qui è una costante finita, e la F di y, ricordiamoci che la F l'abbiamo supposta in L1, quindi tutta questa cosa qui è una funzione integrable in L1, il lato destro non dipende da ε, e quindi abbiamo un controllo dominato di un integrando che converge puntualmente, controllato in modo dominato da una funzione L1. Quindi, ancora una volta, per il teorema di convergenza dominata di Lebeg, abbiamo che il limite di questo integrale coincide con l'integrale del limite dell'integrando. quindi abbiamo che il limite per ε che tende a 0 più di F ε testato su φ, che non è altro che il limite per ε che tende a 0 più dell'integrale di F di y per φ di ε y in dy, questo possiamo portare il limite dentro, per il teorema della convergenza dominata, diventa l'integrale di F di y il limite di φ di ε in y, quindi di φ di 0 in dy. Ma φ di 0 può essere raccolto, non dipende da y, mi rimane l'integrale di Fy in dy. Per ipotesi, questo era uguale a 1, quindi abbiamo φ di 0. Ma φ di 0 non è altro quello che si ottiene quando si prende la delta di Dirac e la si testa con la funzione φ. Ecco che quindi abbiamo trovato che F ε di φ converge a delta testato su φ quando ε tende a 0 più, e questa funzione per ogni φ, funzione testa. e questo significa quindi che F ε approssima la funzione delta per ε che tende a 0 più nel senso delle distribuzioni temperate. Quindi la delta di Dirac, che abbiamo visto che non corrisponde a nessuna funzione, però di fatto corrisponde al limite di una sequenza di funzioni. Se ci pensate un atom, se come F prendiamo la funzione rettangolare, le nostre F ε sono proprio quei rettangoli che si stringono e che si alzano quando ε tende a 0, proprio come avevamo accennato all'inizio quando parlavamo nell'introduzione delle distribuzioni. Quindi proprio questa idea di questa convergenza di queste funzioni è una convergenza che sfugge, non è più in L1, anche se tutte le F ε stanno in L1, ma è una convergenza che andiamo a recuperare quando ci mettiamo nel contesto delle distribuzioni temperate. e quindi diamo senso a questa delta come un limite di funzione che si concentrano in un punto mantenendo invariata la loro massa. Tutti gli integrali di F ε sono uguali a 1, proprio per come abbiamo fatto il riscalamento.